Oh salve ragazzi come vedete sono vestito uguale ma perché sto registrando sostanzialmente due ore dopo aver fatto la prima puntata e via annuncio ufficialmente che sono un cretino Sono un cretino perché ipotizzavo che servisse una mod per fare dei lavori migliori come avevo accennato nella prima puntata Ma non era la mod che serviva, era il DLC, i DLC che di solito su The Sims 4 che è diventato free to play da qualche anno va bene Costano, scusate, partito Siri versione maschile, costano 50 euro, comunque 40 euro l'uno Però appena ho chiuso la registrazione, ho fatto il primo video, l'ho messo su Youtube Mi sono reso conto che c'erano gli sconti estivi quindi i DLC non costano 40 ma ne costano 20 Quindi ho comprato il DLC con i lavori giusti che si chiama vita da liceali, high school experience, una roba del genere inglese E dovrei aver sbloccato i social come intendevo io, come intendevo io, non col lavoro del cazzo che mi ero fatto io Quindi in realtà io adesso con la signorina Andreina se vado carriera e cerco lavoro, vediamo Posso fare il vero influencer, non questo qua che è quello del gioco base, vediamo Babysitter, barista, eccolo qua, simi influencer e c'è anche lui, c'è anche lui Videogiocare per, tra l'altro questi due lavori mi sa che possono farli anche gli adolescenti Videogiocare per divertimento, per lucro, diventa sembra di videogiochi La stella dello spettacolo virtuale È una webcam, perciò di persone diventano simi influencer e i candidati tirano la caccia Cazzo, sono, sono indeciso adesso, 28 euro l'ora, 22, ma non è minchia, magari, magari Magari fosse così specifico 22 l'ora, manco i neurochirurghi comunque Cazzo, cosa faccio? Simi influencer o streamer? Simi influencer, io faccio streamer, porco giunta Quello che si fa nella vita vera lo si fa anche Nei videogiochi, poi tra l'altro essendo part time posso farlo Posso farlo unito anche ad altri lavori, aspetto un attimo Carriera Lascio il lavoro, vai Dalle dimissioni, ok Abbiamo dato le dimissioni Cazzo, non lo so, perché? Perché? Perché sono indeciso? Massimo, facciamo la streamer Facciamo la streamer Vai Dalle 5 alle 7 L'orario di lavoro O dalle 21 alle 23 21 alle 23 è il nostro orario Dalle 5, la notte ci sarebbe No, io faccio dalle 21 alle 23 La sera Prima serata, vai Prima serata Però anche dalle 5 e 30 No, vabbè, facciamo prima serata No, che figata, dobbiamo scegliere pure la vatera del canale Questo è lo Shiba Il gatto Ma direi di mettere questa Assegnazione lavorativa Attenzione, attenzione Svolta, svolta Andrina Tossichella deve rilanciarsi Parla con un sim amico dell'attività parallela Ah, dei sim Poi dall'altro posso anche andare a fare altri lavori Immagino che i lavori partenzi possono avere Se ne possono avere due Allora Streamer occasionale Inizierà lunedì alle 21 Bene, c'è proprio l'orario L'orario Però immagino che Bisogna Allora Carriera Fermi un attimo Aggiungi il livello 2 nell'abilità di imprenditoria E il livello 2 di videogioco Ok, quindi bisogna videogiocare Bisogna videogiocare Gioca una partita Sim per sempre Dai, videogioco, Andrei Dai Ci sta, ci sta Saperlo prima, ragazzi Vabbè, il primo episodio è andata così C'è stato il primo episodio Abbiamo arrivato a casa Abbiamo fatto selfie tossici in giro per la situation Secondo me ci sta Va benissimo Va benissimo come inizio Tra l'altro Essendo Essendo streamer Io se non sbaglio Vediamo un attimo Vediamo un attimo Cioè, avendo Comprato il DLC Eeeh 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 PC Eccoli Il computer da streamer ci deve essere Eeeh Perché se vado Andiamo un attimo su studio Fermi tutti Un computer da stream 1500 Questo qua Minchia 2000 Io voglio questo Quello che ho io Però adesso 1500 Posso vendere qualcosa Che non serve Tipo il frigo Allora Fammi vedere se vendendo Vende No allora Dai Non esageriamo Per ora va bene Questo computer Solo che Ho bisogno Ho bisogno Di questo computer Ho bisogno per forza Perché c'è la webcam Allora Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Alzati Cretina Brava Tanto l'abilità da videogioco Sta salendo Vai qui Ok Ok Eeeh Se faccio così Guarda Se faccio così Se vado qui E vendo Questo 1000 Ok Doviamo arrivare a 1000 Doviamo arrivare a 1000 E qualcosa Vai Vendite anche tutte le foto 2 Tutto fa brodo Tutto fa brodo Vendi Lampadario 72 Va benissimo I tamponi Il letto Vendi 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 Ok Il divano Il divano Cazzo La tele Che non la guardo mai Ok ci siamo Fermi tutti Ci siamo Fermi tutti Ci siamo Mi sto indebitando Per comprarmi il computer Ok A posto Perfetto Abbiamo un computer Da streaming Oh Oh È fatta È fatta Vediamo Gioca una partita Beh Saliamo a livello 1 Di videogioco Nel frattempo Poi tra l'altro Io posso Chattare Con Gli amici No Trendy Cosa vuol dire Controlla i follower Esplora Trendy Informazioni su Trendy Controlla i follower Vediamo cosa fa Perché un altro Sarà un altro social Probabilmente Non c'è twitch Vabbè droghe Social banni Apri social banni Allora Vediamo un po' Social banni Ti dà il benvenuto Puoi socializzare Con i sim E aggiornamento Iniziare l'opzione Allora Nuo post Per anticipare Aggiungere l'elenco Dei contatti Travis Ok Feed Amici Aggiungere l'elenco Dei contatti Lina Caliente Il guidabate Dello scorso episodio Vabbè Tutti quelli che ho conosciuto Dai Massimo Colombo E Il nobile qua Messaggi Coltiva le relazioni Feed Pubblica qualcosa Racconta la tua esperienza Come faccio a pubblicare qualcosa Ok No Questi sono i tag Feed Tag a qualcuno Allora Forse Allora Apri social banni Inbio messaggio diretto Disattiva le notifiche Non so come si faccia A pubblicare qualcosa Forse addirittura Vabbè Proprio Prova a farmi un selfie Come al solito Ormai è diventato Il meme Del Del momento Selfie Vai Dai Arrivi a messo livello 1 Di videogioco Poi devi pure fare la pipì Andrini Ce l'ho Livello 1 A posto Siamo anche un po' stanchini Sono le 3 di notte Vai Fai la pipì Ok Come si sale Secondo voi Come si sale Nel livello Di imprenditoria Non ne ho idea Secondo me Non ne ho idea Bisogna controllare Allora Prenditi Una pillola di Xanax E vai a letto Andrini Vai Là Dormi A posto Svegliati Svegliati Sono le 9 Minchia Allora Quale mi sveglio io Docina Vai Docina E poi colazione Servi la colazione Fai un pasto veloce Cereali Vai No Arco Giuda Mi dimentico sempre Mi dimentico sempre Non si è visto niente Credo Al massimo censurerò Ah la posta Attenzione Guarda la posta Bene 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 E poi Una volta che hai mangiato Direi anche di fumare Vale Vai Sigarettina mattutina A posto Vediamo un po' La Posta Prendi la posta Ok Vai 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 Ottimo C'è anche un decontenta Ah vero Dopo ovviamente Devi anche Ovviamente Larti i denti Che la mattina È essenziale Lavarsi i denti Vai A posto Cos'è sta roba Ah è vero Gli ho messo Il tratto instabile Quindi ogni tanto Flipperà La povera Andreina Fiduciosa Freschezza La menta Ottimo Allora Ci è arrivato Un botto di roba Le cartine E quasi quasi Ne rolliamo una La prima giara La prima giara Per collezionare Per collezionare l'erba Poi dopo ne compriamo I semi Eccoli qua Apri A posto A posto Abbiamo OG cash AK47 Parpo e purple ace E la solo di cazzo Quattro Ce l'hanno date Questo spacchettamento Vabbè facciamo Queste E va bene Così Pianto Al massimo Comprerò Un altro vaso Anzi Lo compro adesso Lo compro adesso Lo compro Qua Attività Abilità Vasino Qua A posto Sbagliato Vai Pianta anche questo Poi devo anche Aumentare il giardinaggio Ovviamente Vai vai Pianta 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 Andrino Pianta Innaffia Vai Innaffia tutto Innaffia tutto Innaffia tutto Brava Brava Anche questa Devi innaffiare Innaffiata Penso di sì Ok Vai Carnetta E poi C'è il fino Social panni Attenzione Apri social panni Che è successo Feed Trovate Trovate una grande amica Non si può vivere Senza grandi amici L'otta che cuscina È stata formidabile Attenzione Cosa posso fare Ah mettiamo lì La reazione Vai Con Travis Ci provo Perché è il pusher Vai È figa Sta roba Del Dei social Anderina Mi ha pensato Di imparare A suonare la chitarra Ma che domanda è Ma che domanda è Feed Feed Ma se mi faccio la foto Vediamo Hai fatto un selfino Dopo aver fumato Sempre dopo che ha fumato Ha fumato Andreina Eeeh Con che faccia Con che faccia Sbarazzina Ale Dopo la ce la faremo Con la gancia Dietro Quando sarà cresciuta Con gli occhi rossi Sempre rossi Bene Bene Con questo selfie qua Carica su Instagram Carica una foto Professionale Ah Ma quello che penso io Per i profili Quindi adesso Il mio profilo Da streaming Alla foto Professionale Attività Controlla i follower Dell'attività Parallela Avere o bene Ho due follower Ah ok Come la vita vera Quando inizi su Twitch Hai due follower Bene Eeeh Vai Ottimo Ora In realtà Io inizio alle nove A lavorare Quindi come la vita vera Nel giorno Dovrei un attimo Fare altro Però prima Eeeh Questa la vendiamo Vai A posto Dovrei capire Come ci alza L'abilità Di imprenditoria Forse al computer Si può fare qualcosa Carriera Scegli l'avatar Trasmetti Guru della cripta Attenzione Attenzione Posso pure fare le truffe Pubblicizzano i stream Di videogiochi Rivelo 3 Controlla i follower Lascia lavoro Eeeh Scegli avatar Vediamo Ok Noi Siamo sempre gli stessi Invece Invece vado su social network Internet Internet Simpedia Streaming di tendenza Sim tv Socializza Ordina No Vai Apri social bunny Come prima Immagini Nuovo po' Perché non me lo fa fare Vai a partecipare a qualche evento Perché non ho follower Amici Facciamo Vediamo un messaggio a Travis Scott Vai Interazione Flirtante Vai Interazione Flirtante Lascia che ti porti al pontile Attenzione Ci prova Andreina Ci prova Anche con Attington Vai Vai Con il digger Ottimo Vediamo se mi rispondono Ma l'altro social Serve a qualcosa Trendy Controlla le ultime tendenza Esplora Trendy Penso che sia per i vestiti questo Tipo Pinterest Eh sì Ah no È Shane Lilith Valore Questo credito Completa Include risuolta La caviglia Occhiali da sole Ma voglio vederli Essenziale Country Streetwear Quindi io devo Praticamente mettere Come sono Questo qua Sono tutti i nomi Di sì Nina Caliente Compra A costo Quindi posso fare Posso mettere in vendita i vestiti E la gente mi copia Attenzione Attenzione È telefonata da Scott Attenzione Cosa vuole Scott Sto pensando Ad approfondire La conoscenza Con Catrina Caliente Attenzione Questa è una tattica Che usano i maschi Per vedere Se mi interessate Se fossi in te Non lo farei In amicizia però Dovresti provarci Vai Ha detto in amicizia Ha detto Va bene Contenuto piccante Ah Ah perché Ha flirtato La signorina Ora Si è fatta una certa Io direi di Mangiare Di mangiare Cucina No Pranz Maccherone Al formaggio Vai Facciamoci la pasta Al maccherone Al formaggio Sono un piatto Molto americano Nel mentre mangia Dovrei capire Come si alza La roba Di imprenditoria Socializza Come cazzo si alza La roba Di imprenditoria Social network Gioca una partita Dovrei Sport incredibili Attenzione Dovrei anche giocare Alzare L'abilità di videogioco Arriviamo al 2 Almeno A posto Ma come in bagno La lavare Vergognati Poi dopo Che è successo Qua è il suono Di quando Ci prova qualcuno Con te Forse hanno risposto Ai Mi sa che hanno risposto Ai Allora Social network Allora Andrei Sei pronta A streamare Stasera Anche se Dovrei Vestirmi In un modo Un po' più Provocante Secondo me Vediamo un attimo Il social Non mi hanno ancora Risposto Non mi hanno ancora Risposto Vabbè Travis Scott È un amico Mi sa Quindi io direi Di Chiamarlo E di Mita Riuscire Perché anche La missione È praticamente La missione Della carriera Uscire Acquisti Acquista regali No Casa Sociale Sociale Storia Chiacchiera con Vai Chiamalo No Vai Ora Pipì Magari vado a fare No Magari vado a farmi un giro Che pa' Andiamo Andiamo Dove possiamo andare La palestra La biblioteca Il velluto blu È aperto Il velluto blu Dai Andare no Andare no Eccoci Allora Fatti consigliare Droghe Basta Per l'amor di dio Azioni Altre scelte Amichevole Chiacchiere Allora Chiedi come sta Trevis Assolutamente no Interessi Discuti di giochi recenti Altre scelte Eccolo Spargi la voce sull'attività parallele Sto streammando Trevis Sto streammando Ma perché mi ha dato 11 dollari Mi ha pagato Eh Sono d'accordo Sono d'accordo Ok Amichevole No allora Per condividere La gancia Dobbiamo innanzitutto Rollarla Vai E sederci E sederci Da qualche parte Ah Ma prendiamoci un drinchino Vai Ordine a bevanda Come droghe Ah Ordine a bevanda Ordine a bevanda Ordine a bevanda di gruppo Gin fits Screwdriver Gin tonic Whisky aspro No Rum e coca Vai Alle 5 di pomeriggio Alle Sono flirtante Attenzione Perché siete riusciti brutti idioti Ah ok Perché si era sminchiato All'intelligenza artificiale Vai Bevete sto rum e cola Vai Vai Mia che vita Che vita da stare Andreina Potreste sedervi Ah ah Oh 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 Tag tag Ma doh Che casino Quanta gente Andrina comunque Andrina comunque è flirtante Avrà più successo Nelle situazioni amorose Ci facciamo anche una botta Già che ci siamo Dai e trinca Andrei Brava trinca 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 Cannetta Sperando che non ci siano sbirri Che vita E poi direi di prenderci anche una botta di Xanax Comunque io mi sa che me ne deve andare a casa Travis tra un po' devo iniziare a streamare Vai fuma Vai a casa Vai a casa Vai a casa Vai a casa cretina vai Ora dove aver fatto un po' di follie Di follie a locale Direi di fare di prima di iniziare a streamare Direi di fare una cosa Prendere Molto flirtà madonna mia Sta esplodendo Andrei Di prendere Di prendere Allora mettila qua Mettila qua Tra l'altro qua quanti sigarette ho? 20 20 15 Allora questi qua nuovi Leviamoci lì dall'inventario Prendi la pillola Vai Ok Disattiviamolo Lo voglio fare Manualmente Prendi la pillola anticoncezionale Perché non si sa mai Xanax Pillole anticoncezionali Erba Streaming E Carriera Pubblicizza uno streamer No vabbè Immagino che inizia automaticamente Ok Posta sul viaggio Narrazione felice Vai Sì perché sono uscita di casa Vai A posto A posto Altre scelte Come faccio a streammare Ordina Aggiorna Carriera Forse inizia Forse inizia automaticamente Fai streaming Fai uno streaming dal vivo Streamiamo Streamiamo quello che c'è Cerca lavoro Lascia lavoro Trasmetti Sto lavorando Teoricamente sì Teoricamente Sto streamando Trasmetti Ok Trasmetti Sto streamando Posto posto Dai Andrico Sto streaming Vai Fino alle 23 Sono le 23 Fino alle 23 Fino alle 23 Attenzione Sono le 23 E direi di Staccare Perfetto Perfetto Ce l'abbiamo fatta Stiamo salendo Imprenditoria Quindi l'abilità di imprenditoria Dandoci lo sviluppo Una terribilità Ok Ho donato 4 follower Dai 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 Ma quindi io volendo Se faccio carriera E Faccio cerca lavoro Posso fare anche l'altro Posso fare anche l'altro Secondo 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 voi Dalle 5 Alle 7 e mezza Ho paura Ho paura però Di chiudere Con lo streaming Nano Simi Influencer Vediamo Assegnazione Lavorativa Ok Quindi ne ho due Adesso di lavori No Streamer Occasionale Sì Sono sia Streamer Occasionale Che Simi Influencer Va bene Va bene Quindi due Di carisma E due Di imprenditoria Recensisci un prodotto Di tendenza Se carica il video Attenzione Attenzione Tipo waterdrop Va bene Va bene Questo mail Lo facciamo dopo Intanto Io direi Di Farci Una Sigarettina E di mandare Un messaggio A Un messaggio A Dove è Travis E' morto Ah forse è qui Questo non me lo fa fare Forse è qui nei dintorni No Non c'è Vabbè Ah guarda c'è pure il calendario Il festival Ovviamente ci sono i festival Però vabbè Sti cazzi Flirtante Pillele anticoncezionali Troppo precoci Ah le ho prese troppo Ah è vero Perché bisogna prenderle Prima Giustamente bisogna prenderle Un po' prima Dell'ovulazione Incredibile Quanto sia Sia realistico Vabbè Hanno tre giorni Io comunque Continuo il ciclo Ogni sera Me le prendo E Va bene così Intanto tu fuma Ma andiamo Andiamo a farci Andiamo a farci Un ciclo Da qualche parte Ma si Andiamo Al belluto Blu Di nuovo Vai Vai con Travis Sempre con Travis A posto Però bisogna stare attenti Che ancora Ci vogliono tre giorni Ancora prima che facciamo Effetto Le pillole Eh Ciao Travis Ho streammato Ho streammato Per la prima volta Parla del posto Creatto da Travis Vai Ma è sempre Le frirtante Questa qui Ma Ma perché Vabbè A sto punto Se vuoi Vai Qualcosa di Intimità Fii Parla delle tue Fantasie Vediamo cosa dice Vai Il proprio Nell'orecchio Gli è la sussurrante Ok Ok Perfetto Affumica Esatto Ma è un cazzato nero Travis o sbaglio Flirta A posto Ha detto Porno Oh porno Va bene Va bene Flirta 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 Andrina Vai Magari mi fa lo sconto Visto che non pusce Vai Vai Le tancissi prodotto di tendenza Ah posso recensire la droga Veramente Va bene Va bene Poi dopo lo faccio Dopo lo faccio Dopo lo faccio Mercato della droga attuale No Ma come faccio a condividere Ho bisogno tipo di una panchina Vabbè Proviamo ad andare a vedere Ecco qua Vieni qua Siediti e chiacchierà qui Vai Con la panchina Vieni A posto Droghe Erba Condividi la cannabis Vai 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 Facciamoci una fumatina Travis Perché non l'abbiamo fatta La fumatina Brutto idiota Cioè te la offro Poi tra l'altro è tua Questa erba Dovresti offrirmela tu Vai A posto Vuoi fumare con me Vai Dai Pausa cannetta Con Travis Assolutamente Assolutamente Ci sta Intanto comunque Flirtiamo È l'una di notte Tra l'altro Che vita Che vita Che vita sregolata Andreina Ok Romantico Flirt Complimentati per l'aspetto Vai Vai fatela girare Bravi Sentimento acquisito Ah mi sai che ci siamo Esatto Sono d'accordo con Travis Defit the show Vai vai Fumo Esatto Anch'io fumavo Anch'io fumavo Affetto Dai regalo Ma che cazzo ridete Sono fattissimi Che cazzo ridono Dai regalo No Che cazzo è Altre scelte Wicked Diventa partner Di sessuali casuali Però non posso farla vedere Non posso farla vedere La Wicked Non posso farla vedere Fattissimo Travis Provo che è in modo flirtante Vai Provociamolo un po' Cosa che hai detto? Romantico Flirt Battuta da bordaggio Vai Vanilla frost Sono d'accordo Affetto Droga di qualità Vai nel mezzo Nel mezzo parliamo di droga Parla delle tue fantasie E manda bacio Manda bacio vai Mandagli un bacino E Sei innamorato Manda bacio Offri rosa Vai complimenti per l'aspetto Continuiamo Vai continuo Continuo vai Suggizaggio Suggerimento sulla personalità Amichevole Quando è che posso Piantare La bandiera Domanda spinta Complimentati Sussurra Vai Sussurra 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 Ah in piedi Giustamente Ragazzi è pure altino Andrei Suburra Esatto Vediamo cosa preferisce Travis Anche se immagino che preferisca qualsiasi Come le manette Di cosa stanno parlando? Sti Sti maiali Mi piacciono i peli C'è scritto Mi piacciono i peli Guardate Fermi un attimo No non si vede Maledizione Aspetta che l'abbasso un po' No perché Va letta Va letta sta cosa Si vede? Mi piacciono i peli Attenzione Attenzione Beh sono d'accordo con Travis Effettivamente Vabbè dai La lascio Io la lascio così la webcam Perché effettivamente Compaiono delle robe lì Mettiamola a mezza altezza Aspetta che si è Sminchiato BS Ok Perfetto Eccomi Teniamola così Mi piacciono i peli a Travis Molto giocosa Ah E' quando si dice giocosa Deve andare in bagno Anderina Aspetta un attimo Dov'è il bagno? Piano di sopra? No Quella cazzo è il bagno? Domenchi è il bagno? Non c'è un bagno Vabbè Io direi che possiamo Tornare a casa Addio Travis Non sono quel tipo di donna io Ok siamo a casa È tardissimo Sono le 4 di notte E io direi di andare a fare pipì Ok Vai a fare pipì Andreina Vai a fare pipì Aspetta che Fai muri Buggati Ok mi giro Che se no si vede tutto Ma quindi Posso pubblicizzare Mangiamo domani Mangiamo domani Vai a dormire Vai a dormire Torno Oh La pillola non ho presa Vabbè No l'ho presa prima L'ho presa prima Overdose di pillole anticoncezionali Ok dormi Brava E poi direi di fare una bella colazione con uova e toast Bella sostanziosa Vai Ok mentre cucina I bisogni sono quelli La doccia vabbè dovremmo farla Che schifo Vediamo un attimo Vediamo un attimo Nuovo post Posta sullo streaming di videogiochi Vai A post Ce l'ho Vediamo il feed Pauza pranzo è un ottimo momento per singere amicizie Ma vai a cagare Vai a cagare A messaggi Vediamo i messaggi Il tuo stile è impareggiabile Insegni a me di imitarlo Facciamo gli occhi Ho vi dato una nuova parola Plagio Ma esiste già brutto idiota Vandiamo nel bacino Sembra un lama tosa Ah ma c'era con noi Nina Caliente Una villain Amici Posso taggare Tagga un sim Travis Scott Interazione buffa Vai La pentemucca Sono sempre state tagliate fuori Per questo momento E mulà Ah 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 Che simpatica Che è Andrina Vabbè Avevamo fatto il post Io direi che Mentre Mentre Cuciniamo Travis è un buon amico di Andrina Perfetto Ci hanno fatti amici il pusher Brava Andrina Brava Pure salita di cucina Mangia Vai Mangia Mangia Ah è vero È vero È vero È vero È vero Bisogna innaffiare Innaffiare Non posso innaffiare Non ancora Vabbè Vai Recensisci il prodotto di tendenza Aspetta che provo Mi faccio la cannetta E poi lo recensisco Ah no Non può Devo farlo per forza Per forza Così Recensiamo le cartine Vai Recensiamo le cartine Tra l'altro In intimo In desabillé Le recensiamo Le cartine Esatto Esatto Sono d'accordo Sono d'accordo Tanto l'imprenditoria Sì L'imprenditoria sale Va benissimo Poi prenditi L'Oxanax Da bici Da bici Ok Cos'è Fai della recensione Carica la recensione di tendenza Attenzione Me la metto Carica Carichiamolo Vai Lavoro eroico Andrina ha guadagnato 12 follower A posto Vediamo come sta andando La situa Non ha diritto a ferie Giustamente Non ha diritto a ferie Buono Imprenditoria Sta salendo Fai uno streaming dal vivo Esegui streaming dal vivo Dal tuo computer Ma come si fa Carriera Trasmetti Esegui streaming dal vivo Non so dove cazzo sia Altre scelte Socializza Altre scelte Non c'è Non c'è Social network Gioca una partita Droghe Carriera Non l'ho Non idea di come cazzo si fa C'è altre scelte Internet Guarda streaming Aprite acquino Social bunny Socializza Ordina Promogrammazione Come minchia si fa Forse All'orario giusto Forse all'orario giusto Bisogna farlo Imprenditoria 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 Non ho idea ragazzi Però per ora Va bene Così Quanto sono A livello di videogioco Due Va bene Va benissimo Quindi ora Vai Prendi un altro Prendi un altro Dexanax Ah va che c'è il tatuaggio Andrina Me l'ho dimenticato Di vedere Avevi fatto il tatuaggio Anche dietro qua Bellissimo Ok Vabbè Fuma Vai Dopo l'oxanax Ci sta la cannetta Vai 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 A posto A posto A posto E direi di Farti La doccia Deee Porco judao Ma perché mi diventi Devo mettere le censure Io non posso vivere così Non posso assolutamente Vivere così Ah sta flippando Ok vedo che l'oxanax Fa effetto Ora Social banni Apri social banni Eee Travis Chi è che mi ha fatto La reazione col cuore Immagino Travis Feed Sono perfetti Taggare un sim Taghiamo Travis Eee Eee No allora Tagghiamo qualcun altro Guido abate Vai Interazione amiche Facciamoci tanti amici Vai Facciamoci anche un post Sulla promozione Feed Perfetto 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 Stiamo carburando Ma Allora Trendi Droghe Social banni Devo capire un attimo Dove la Tipo Vediamo Sociale Invione sms Controlla diario E cosa ci dice Eee Non ci dice niente Ok Se faccio una story Invece Sociale Facciamo una story Vai A posto A posto Ma selfie Vieni qua Facciamo un altro selfie Andrei Ok Eee Dobbiamo fare Foto Vai Ma se volessi Cambiare posizione Come si fa Così Sempre con gli occhi rossi Lei Ovviamente A Aspetta Così No le espressioni Non me le fa cambiare Non so perché Questa è quella Dell'altra volta Col pugno A Così va bene Così va bene Così va bene Vai A posto Sono tutti i selfie Che poi mi vanno Nella cartella Del gioco E ce li ho Formato foto Nella vita reale Posso farci le copertine Fighissima sta roba Le copertine Le copertine Da influencerina Eee Ora Mettila qua E Pubblichiamola Vai Imposta il filtro Ruota la foto Carica su Instagram A posto Ok Eee 20 follower Minchia c'ho 784 follower Già Veramente Sono così Sono così Sulla cresta dell'onda Ok Sigarettina 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 Tra l'altro Cevate anche una certa Vorrei provare a Cosa posso recensire Questo posso recensire Il bonk posso recensirlo No Fumaparpolase Le sigarette Non posso recensire Le pillole anticoncezionali Posso recensirle No Le cartine però Sì Strano L'Oxana Sì Attenzione Ci sto chiamando Travis Sono davvero felice Che mi abbia consigliato No Che colpa al cuore Divendata una telenovela argentica Che colpa al cuore Travis Ma come ti permetti Ma come ti permetti Come ti permetti Travis Ora Ah è primavera Fa caldo Ora Visto che Travis Ci sta sfidando Visto che Travis Ci sta sfidando Io direi Quanto sta fumando Quella lì Tra l'altro Mettiamoci Mi piace da solo Allora Io direi Di invitare Travis A casa E quel che succede Succede Ovviamente Non potrò farvelo vedere Peccato Sociale Chiacchiera con Video chiama In vita Nella lotta attuale Travis Vai Vai Basta fumare Che è una turca Ok Travis Sta arrivando Eccolo qua Eccolo qua È già qui Perfetto È già qui Invita a entrare Buffo Vai Facciamoci La solita Barzelletta Ok Mettiamoci Sul divano Vieni Dai Vieni sul divano Vieni sul divano Lo so Lo sai che gli studi Dimostrano che i buoni Amici Dormono insieme Davvero Allora penso proprio Che dovremmo fare Sess Non ci sono studi Del genere Se hai una testa Di cazzo Questa è la mod Ovviamente Perché non penso Che su The Sims Normale ci siano Sti dialoghi Vabbè Ragazzi Ovviamente L'ho fatto venire Per questo Sceglierò La prima La prima Scelta Ma voi Ovviamente Non vedrete Nulla Ci vediamo A fatto compiuto Ok ragazzi Rieccomi Ho fatto quello Che dovevo Come vedete Andrina è molto Soddisfatta Momenti piacevoli Di sesso soddisfacente Si sta facendo Ovviamente la doccia Bellissima Questa è la censura La censura In questo modo Ci sta Così almeno Non si Ci vede nulla Ora che sta per uscire Giro la telecamera Fa parte ovviamente Della vita Della vita Di ognuno Ovviamente Non posso farlo vedere Ragazzi Ve l'ho già detto È troppo È troppo Troppo Semplicemente troppo Non è roba Da far vedere Su Youtube Però vabbè Succederà Ogni tanto Succederà Però leverò Vedrete ovviamente Il risultato Finale Andrina comunque È felice Come vedete Quindi adesso Io direi Di Travis Ci ha dato Bravo Travis Io direi Di Fatto E La Ok Deve andare Ah proprio è venuto Solo per quello Arrivederci Travis Oh Bene Che ore sono Sono le sette Le sette Allora Fai La PP Test di gravidanza Bisognerebbe farlo Effettivamente Proviamo Perché comunque Le pillole Cosa Cosa È quello che penso io Non c'è scritto E Piro Lenti Di Porco Giuda Aspetta Fermi Fermi Tutti Fermi Tutti Fermi Tutti Perché Perché Sta pensando A un sonaglio Per bambini Test di gravidanza Guarda che censuro Ok Minchia Non dirmi Per cortesia Per cortesia Andrina non è incinta Ok Perfetto 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 Dai Va bene Va bene Ok Vai a mangiare Andrei Cosa possiamo mangiare C'è una base di prosciutto E la madonna No Cena Panino con hamburger Vai Fatti un hamburgerino Che poi facciamo Una diretta Oh Guarda le nostre piante Guarda le nostre piante Sta giù Ah Ovviamente D'inverno muoiono Questa non cresce Allora Il capo di Andreina Bel lavoro Vai Bel lavoro Bel lavoro Ah C'è un piatto Che dovrei Buttare Gioca una partita Devo ancora capire Come si fa Controlla E follower Trasmetti Altre scelte Internet Socializza Non capisco Veramente Come cazzo Si faccia A fare E partirla live Altre scelte Non è che devo Cliccare su me stessa Parla di freda te Prendi la luna Azioni Forma un gruppo Altre scelte Manda a casa Tutti No Oh Trasmettiamo questo Che ti devo dire Che ti devo dire Non ci vado qui invece Ti vado un attimo Sulla carriera Vai sulla carriera Rendimento buono Qua sta salendo L'imprenditoria Va bene Però gli streaming dal vivo Come mentre si fanno Esegui streaming dal vivo Al computer Ma Dove cazzo è Social network Carriera Ese apro tutto Finchè non lo trovo Ah Toba Go Swing bee Ah Un posto fisico Ah Va proprio al lavoro Da un'altra parte Ok Va proprio al lavoro Da un'altra parte Non capì Non capì Pensavo si potesse fare Da 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 casa Ok Quindi vabbè Magari dovrò arrivare A un tot di imprenditoria Ok Ok Incarichi per la promozione Livello 2 di imprenditoria Livello 2 di carisma E quello ci arriviamo Carisma se non sbaglio Ci vuole uno specchio Che adesso Ti compro subito Ti compro subito Lo specchio D'altro che Quel quanto Eh siamo già A un bel po' Quindi appena tornato a lavoro Mi sa che per oggi Anche per oggi Abbiamo andato Ragazzi Mettiamo lo specchio Qui Madonna Facciamo il bagno cieco Va Ok Bagno cieco E ci mettiamo Una piccola lucina Qua Ok Ho tolto gli asciugamani Ma fa niente A posto Ora Mentre noi siamo A lavoro A streammare Da qualche parte Oggi Andreina Ok Ho svolto un ottimo lavoro Grazie Grazie Quindi io direi Di Tirare giù Un po' Di Xanax E di farsi una sigarettina Qua all'aperto Sulla veranda E mentre Andreina Si gode La sua Sigarettina Post Lavoro Ragazzi Sta prendendo piede Con quella serie Ci sta Fighissime Peccato Per le Vabbè Ho speso 20 euro Chi se ne frega Sti cazzi 20 euro Ormai li si spende Da McDonald's Però peccato Perché mi aspettavo Un pochino di più Dai DLC Di The Sims Vedete comunque qual è il problema Secondo me Infatti molta gente si lamenta di questo Che bisogna spendere 40 Perché l'ho comprato in sconto Bisogna spendere un botto di soldi Per i DLC Però Non hanno il mordente Che ha una mod Come questa qua Della droga E questa qua Della del sesso Le mod sono gratis E che ti cambiano Veramente il gioco Però vabbè Dai Fa niente Mentre lei sta flippando Andreina Vi saluta Vi saluta Ci vediamo ragazzi Al prossimo Al prossimo Episodio Il terzo episodio Di Andreina Tossichella Influenzella Streamerina Due Anzi tre Scusate